segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e dopo di che muore matteo messina denaro oggi lirio abate che certo di mafia si è occupato e che ne conosce i meccanismi dice che la mafia è pronta a ripartire che è invisibile e quindi per certi versi anche più pericolosa fa riferimento a lidra non questa figura mitologico questo mostro terribile così allora devo fare una premessa io non mi occupo direttamente di queste cose da tempo quindi faccio delle considerazioni che sono congetture di un lettore attento dei giornali la mia percezione che cosa nostra non sia più e non riuscirà più a tornare per fortuna quello che era prima quindi la lotta il contrasto le indagini i processi la celebrazione dei processi nel rispetto delle regole dello stato democratico per colpire una belva che metteva in discussione la sussistenza stessa dello stato democratico tutte queste cose hanno inferto a cosa nostra più che ogni altra organizzazione mafiosa dei colpi durissimi io a volte nelle conferenze pubbliche cito dei numeri che riguardano quel contesto in generale la situazione criminale in questo paese in italia nei primi anni 90 c'erano circa 2000 omicidi all'anno gran parte di questi erano omicidi commessi durante guerre di mafia nel 2021 noi abbiamo avuto meno di 300 omicidi questo non è un dato irrilevante certo chi sostiene che la mafia risorga più potente di prima dice che è un fenomeno sotterraneo che è un argomento ma rischia di essere un argomento come dicono gli avvocati che prova troppo non è esattamente così io non credo che cosa nostra tornerà quella di prima e credo in generale che il contrasto al crimine organizzato in questo paese sia un'attività praticata con efficacia molto più che in altri paesi europei perché in italia abbiamo norme molto efficaci che non hanno altrove per contrastare i patrimoni criminali questo vuol dire che possiamo stare tranquilli ovviamente no chiaro e la la